Laura, Tiziano e Giorgia, in rigoroso ordine di apparizione, hanno appena cantato per noi Massena Christmas Party. Buongiorno! Buongiorno! La giovane amica che è con noi questa mattina ci stava raccontando che la sua canzone preferita di Natale però rimane a te, quella di Giovanotti in versione... Quella del 2009. Ti commuove ogni volta? Sì, anche l'altro giorno ero al concerto, prima di andare al concerto appunto la stavo rifacendo ascoltare al mio ragazzo perché è una delle mie preferite, ogni volta alla fine piango. Perché anche le bloggero alla fine hanno un cuore? Sì, ma certo, ci mancherebbe! E anche le style addicted, le fashion addicted? Sì, sì, quelle soprattutto, almeno io sono una persona molto emotiva che si commuove facilmente sono dei filmati su YouTube così che ogni volta che li guardo, anche se li conosco a memoria, piango sempre, quindi... Andiamo con ordine... Eh, fai il tuo mestiere, Linus! Vabbè, un po' di perambolo, dai, per scusami... Anche perché io mi abbevero la tua fonte perché tra poco dovrò fare un programma in televisione Come raccontavo prima della pubblicità, ieri mattina a quest'ora abbiamo avuto Paola Marella l'icona dello stile casalingo e ci siamo detti, insomma, prima di rimettere a posto la casa e forse è meglio che rimettiamo a posto la nostra estetica privata e quindi ho invitato Chiara Ferragni che è una blogger di successo internazionale Poi parliamo di questo, eh beh, in realtà internet ha questo difetto terrificante che le cose sono certificate A differente della televisione o dei giornali dove i numeri sono sempre un po' arrotondati C'è una multarella ieri dell'auditel, dell'antitrust all'auditel, vabbè, insomma, è così Giusto per essere in attualità Su internet ogni click è certificato Sì, quello sì, ci sono appunto dei siti appositi con cui puoi certificare tutto Poi naturalmente per ogni collaborazione, comunque quando ci sono interviste ti chiedono dati certificati Allora, tu hai un blog che parla di moda che si chiama Blond Salad Cominciamo dal 9 che mi fa molto ridere Blond Salad perché ho aperto il blog a ottobre 2009 E volevo un titolo, cioè un titolo, un, come sia, un titolo al blog che comunque mi rappresentasse Quindi che avesse una caratteristica che tutti possono vedere Quindi la prima che mi è venuta in mente è Blond Non volevo fosse solamente di moda ma che era, che, non so, facesse, rispecchiasse un po' più o meno tutta la mia vita Cioè non proprio tutta, però naturalmente tutto quello che io mi sento di condividere E quindi che fosse un po' un'insalata di me E per questo Controsenso Controsenso, questo è Raff e questo è Radio DJ Siamo con Chiara Ferragni e cioè la nostra blogger di moda Sì Quindi sei molto molto elegante Sei sempre così elegante oppure qualche volta il tuo outfit contempla un look più sportivo? No, dipende proprio dalle giornate Cioè dipende proprio anche dall'occasione, quello che faccio Se devo fare foto per il blog, se non devo fare foto E mi aspetta magari una giornata di relax come può essere il weekend Mi metto scarpe da ginnastica, jeans, felpa Giacca di pelle, basta Come funziona per gli abiti che indossi? Te li mandano le case produttrici? Beh sì, quando ho iniziato naturalmente erano tutti abiti miei, accessori miei Poi pian piano naturalmente più il blog è diventato più famoso e più naturalmente ti... Sai che io vorrei avere tantissimo la tua autostima? Perché tu dici tante volte mio blog Sei proprio cacchio A 24 anni, mamma mia È una carta che mi viene proprio... Mamma mia ragazzi Io lo dico tanto, è vero Non so se lo rifiuto... No ma non lo so, io che ne so Già io sono molto a mio agio qua in radio Quindi dico quello che penso Si, si, si ma fai bene Sì O anche in buon modo Sì Quindi un posto... Spero di finire presto Cremona In risfrutenza In risfrutenza Veramente, cazzo mio Vabbè Vabbè dobbiamo umanizzarti un pochino No no no, ci mancherebbe Devo Sei troppo bionda per i nostri gusti Va bene Sei anche dorata oggi oltretutto Oggi sì, sono proprio... Senti, quindi come si fa a vivere di questo lavoro? Tu riesci a viverne oppure hai pensato che quando finirai l'avventura, il percorso di scuola Cercherai un altro lavoro? Cosa succederà? Naturalmente quando inizi un percorso del genere non pensi, non devi iniziare pensando di guadagnarci Perché naturalmente deve nascere tutto da una passione che ti viene da dentro La voglia di condividere, vedere le reazioni delle persone che possono essere positive e anche negative naturalmente E poi pian piano naturalmente ho avuto molta fortuna Perché io sono stata una delle prime a farlo in Italia E questo naturalmente mi ha portato un grosso vantaggio Però ho avuto anche tanta fortuna, tante cose che mi sono capitate un po' così E io ho cercato di prendere quello che mi piaceva e di non fare naturalmente E le cose che mi avrebbero snaturata Però devi mettere in conto che non apri un blog e ci guadagni Devi fare un duro lavoro, devi arrivare al momento giusto e tutte queste cose Adesso sì, adesso io vivo del mio blog perché ci sono molti contatti C'è molto interesse perché comunque tutti, tanti stanno capendo il potere del web Soprattutto adesso il potere che avrà sempre di più nel futuro Quindi ci sono tante aziende che adesso cercano di investire più su quello Quando vai in giro per strada ti guardi intorno evidentemente Anzi penso che sia il meccanismo principale questo per chi si occupa di moda Tutto nasce dal basso E ti capita anche di commentare fra te e te il look delle persone che vedi? Quello relativamente, cioè non sono una che guarda mai in negativo Cioè i tuoi compagni di università per esempio si sentono un filo giudicate? No, ma io non sono una che giudica Noi sì Voi mi giudicate? No, non a te Giudicate gli altri, è peggio Non essere egoriferita No, noi Ci sentiamo giudicati No, quando capita, dai Linus, quando ci diciamo in Corso Buenos Aires Ieri sono andato in Corso Buenos Aires Ogni tanto facciamo questi discorsi fuori onda Sai che ieri sono andato in Corso Buenos Aires? Erano tutti orrendi Ovvero no, Linus È un po' sì Per esempio Nicola Savino, vogliamo parlare di questo look? Un po' da reverendo laico Ma a me piace, sì esatto, reverendo laico proprio Non mi sarebbe venuto in mente però si dice molto bene Però mi piace, a me piacciono questi look un po' casual, un po' ricercati Invece senza fare un commento al presente Puoi dare un consiglio a quel ragazzo che sta lì in fondo È un po' il nostro crucio Ma dai perché, ma io non sono una Cosa gli vedresti addosso? Ti racconto un aneddoto per darti la possibilità di infierire Una nostra amica e collega che si chiama Lucia Angelici Un giorno si è chiesta, ma guardandomi negli occhi e molto seriamente Ma tu cosa pensi quando vai a comprarti i vestiti? Ecco quindi Tu che gli hai risposto, che non ci vai? No, io mi sono morso la lingua Stecchio riflesso Guarda, io per la moda maschile cerco No, no, Lucia che è stilosa Lucia è eccentrica È super stilosa Come si dice? Io cerco per la moda maschile, cioè il mio ragazzo ha un suo gusto molto... E tre No, no, ma lascia, lascia Noi non siamo gelosi, no, no Vieni qui, parli tre volte del tuo ragazzo Ecco, di Ricky Di Ricky che mi fa meno male Va bene, ok No, che Ricky appunto ha un gusto molto preciso Io cerco di aiutarlo, però non accetta tutti i miei consigli Poi sulla moda maschile non me ne intendo molto Faccio, nel senso, sono molto più brava a consigliare mia sorella, mia amica, ecc Sono curioso di sapere come fosse la tua vita prima dell'avvento del computer Cioè, eri una ragazzina, però Sì, praticamente l'ho usata da quando avevo 15 anni A scuola, alle medie, così Leggevo moltissimo, leggevo molto, uscivo con gli amici, andavo al cinema, guardavo film Un po' di tutto Lo fai ancora un po', spero Sì, assolutamente, no Buon per te Anche perché il blog nasce da tutte queste, passi da tutto quello che fai Se tu facessi solo quello sarebbe veramente monotematico, non interesserebbe a nessuno Quindi Mettiamo la canzone e poi la domanda che tutti quanti stanno aspettando Quante scarpe hai? Ma io la faccio dopo, ragazzi Andiamoci subito al dente Questa è la Lady Gaga Cosa ne pensi da un punto di vista estetico? Interessante, bravo Lady Gaga è un personaggio che mi piace Cioè, nel senso, è un personaggio molto forte Adesso magari risulta un po' troppo Un po' eccessivo Un po' eccessivo, sì Un filo, diciamo No, vabbè, quello l'ho sempre stato Però quando ti crei comunque un personaggio così Sei quasi obbligato Esatto, hai sempre quella parte da seguire Quindi qual'è la cosa che Però, partendo dall'eccessività Se mi passate il termine Si può arrivare anche a una moda più equilibrata A volte si può mettere un accessorio un po' vistoso Su un abbigliamento invece normale, no? Anzi, è quasi un obbligo Io di solito, cioè i miei look di solito sono così Non sono niente di esagerato Al contrario di tante blogger magari straniere Che a cui piace usare di più E provare di più cose particolari Io cerco sempre di vestirmi in modo abbastanza accessibile Soprattutto come pezzi in sé Cioè non metto mai dieci cose veramente eccessive allo stesso tempo E quindi secondo me è proprio il particolare Che di solito fa la differenza O può farla O vorrebbe farla La tua icona di stile chi è? Icona di stile? Non saprei Ci sono tante persone A me mi piace moltissimo Karin Rothfield Mi piace tantissimo come Gusto E l'ex direttrice di Vogue Parigi Mi piace molto anche Manuel Alt Che è la nuova direttrice di Vogue Parigi Come Gusto E poi naturalmente mi piacciono anche ragazze molto più giovani Mi piace molto lo stile delle Olsen Anche se è molto contestato Perché è uno stile molto casual E mi piacciono stili anche più street style Come Kate Moss Così ma non c'è una vera persona che seguo in tutto per tutto Prendo un po' da ognuno insomma Com'è il tuo guardaroba? Hai una stanza guardaroba a casa? Già le scarpe Le scarpe Stiamo arrivando lì Anche se siamo veramente in visita Allora l'ultima domanda Quante scarpe hai? Non lo so perché non le ho mai contate Non voglio contarle Sennò mi ammazzerebbero Quindi no Dove le tieni? C'è un cavo? C'è un cassaforto? Prima abitavamo in una casa di 45 metri quadrati Quindi erano ovunque E Ricky mi avrebbe ammazzato Ah Lì ti stavo aspettando Adesso invece abbiamo cambiato casa È un po' più grossa Quindi è uno sgabuzzino Che è diventato una cabina delle scarpe Quindi Cosa fa Ricky di mestiere? Ricky adesso segue un po' Tutta la parte del blog Dell'advertisement Così che è una cosa Aiuto Che non vorrei fare io Perché appunto io sono proprio L'unica persona che segue Proprio il blog direttamente E poi si occupa di altri Comunque di altri Ah Il pappino Comunque segue altri progetti sul web Quindi anche lui vive sul web Quali sono i principali blog internazionali? Il tuo è uno dei quattro blog di fashion Più seguiti al mondo Spero di sì Vabbè Il senso è uno È molto seguito Poi sicuramente c'è Ci sono di stili diversi Naturalmente il più famoso Quello da cui è nato tutto È Sartorialist Di Scott Schumann Che è questo fotografo Che ha cominciato a fotografare La gente per strada Come era vestita Quindi non per delle Particolari occasioni Ma nel loro look quotidiano Magari anche di lavoro Così E lui è stato proprio uno dei primi E poi ce ne sono tanti C'è Brian Boy C'è Fashion Tosk Che ho detto prima Ce ne sono di tutti i tipi Guarda Allora febbraio Sfilate di moda femminile Sì Ti aspettiamo per un resoconto dettagliato Assolutamente Va bene Allora febbraio